Giovani, buongiorno e ben ritori sul canale di Neapolis 1926, per prima cosa iscriviti al canale è gratis Terzo appuntamento qui sul canale, sì perché a mezzogiorno è uscito Bulli, episodio 15 andatevelo a recuperare se volete Detto questo, alle ore 15, intorno alle 15, un pochino più tardi per via della connessione internet io non so come mai il pomeriggio Alpsim non mi vada devo staccare il modem, fare il reset del modem e poi in quel caso ritorna ad andare Alpsim non lo so, non riesco a concepire il perché, non penso sia un problema di modem visto che costa più di 100 euro Mosca, è il tuo cazzo hashtag mosca di merda a parte queste le stronzate non so come mai, vabbè comunque i video usciranno, non mi preoccupare in qualche modo riesco a limitare questa perdita di segnale in un altro modo premessa, perché mi sono arrivati anche i commenti sotto il video di buongiorno stai facendo clickbait ragazzi, non è nessun clickbait anzi, anzi il giocatore ha dato priorità massima e ha raggiunto l'accordo aiuto, Napoli e buongiorno hanno l'accordo quindi state tranquilli che, buongiorno, arriverà a Napoli non vi preoccupate addirittura forse prima del ritiro di Di Mar quindi non iniziate a rompere le scatole fai clickbait, fai clickbait non è nessun clickbait perché se no, allora qui su YouTube per fare clickbait ci vuole pochissimo ti dico che il Napoli è su Federico Chiesa è vicino alla chiusura per Chiesa e via discorrendo parentesi Chiesa la Juventus chiede 25 milioni la Roma ne ha offerti 20 ma la Roma scusatemi, la Juventus non si muove non si scrive da quei 25 milioni la priorità del Napoli ora è sistemare la difesa quindi non credete a voci che dicono il Napoli è su Chiesa attualmente il Napoli non è su Federico Chiesa al Napoli non interessa in questo momento andare a prendere qualche d'uno in attacco visto che deve prima vendere in attacco per poter comprare giocatori d'attacco quindi non credete a tutto quello che vedete su internet detto questo detto questo parliamo un attimo di Kvara perché ve l'avevo già annunciato nel video che ho fatto uscire di buongiorno il Napoli dice Niccolò Shira tramite YouTube dice il Napoli ha offerto 5 milioni e mezzo a Kvara ma ancora non basta a 7 milioni direbbe di sì e bisogna fare l'ultimo step però Conte è stato chiaro non si tocca e questa cosa perché se non erro nel nel famoso incontro che c'è stato a Milano tra le parti c'era anche De Laurentiis e De Laurentiis gliel'ha detto bimbo non vuoi rimanere non vuoi rinnovo di contratto a questa cifra bene rimane a Napoli per altri 3 anni a un milione e mezzo per noi non c'è problema Conte l'ha detto Conte è stato categorico chi vuole andare via non può andare via perché se io dico che il giocatore deve rimanere a Napoli il giocatore rimane a Napoli quindi ragazzi io io già l'ho detto alla fine si troverà questo accordo per Quara Quara rimanerà a Napoli la clausola sarà inserita dall'anno prossimo e quindi l'anno prossimo Quara poi può andare al Paris Saint Germain può andare dove gli pare quest'anno nessuno si muove che sia Di Lorenzo ah Di Lorenzo questione Di Lorenzo Di Lorenzo sapete tutti che martedì doveva fare una intervista il procuratore di Di Lorenzo aveva dichiarato che doveva fare un'intervista una conferenza stampa con tanto di giornalisti a seguito bene questa questa conferenza stampa è stata annullata non si sa come mai intanto Perez in sabbia peccato che non è Verstappen peccato porca puttana eh server stampa ne ero più contento Perez comunque non so come cazzo come fai a mettere le gomme soft cristi dio quando ancora ci sono i tempi da intermedia porca puttana scusate non voglio mai queste cose non le concepisco Horner è l'unile che fai no 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 perché siete dei coglioni perché non glielo avete messo a Verstappen le gomme rosse vabbè tralasciando questo stavo dicendo quindi Di Lorenzo rimarrà a Napoli anche lui questa cosa della non conferenza stampa è l'ulteriore dimostrazione che Di Lorenzo rimarrà a Napoli e siamo tutti felici e contenti eh ha parlato un giornalista giorgiano tale Vako Capridarskvili per spendere spero di averlo detto bene ma di sicuro non l'ho detto bene giornalista giorgiano ha detto Kvara è il nostro trascinatore e qui nessuno lo mette in dubbio qui nessuno lo mette in dubbio come trascinatore di Napoli vabbè è trascinatore della Georgia secondo me dovrebbe lasciare Napoli con Conte non svilupperà bene le sue capacità offensive gli dite a questo Vako a questo signore Lukaku l'ultimo anno con Antonio Conte cosa ha fatto e poi gli ultimi anni senza la guida di Antonio Conte cosa ha fatto no no diteglielo diteglielo e poi vediamo cosa risponde il signor Vako vabbò ieri sera c'è stato Daniele Longo io vi avevo parlato anche di Ermoso Gianluca Di Marzio dice si è parlato di Ermoso in orbita Inter ma la priorità vorrebbe fare un investimento per un profilo giovane come Buongiorno piuttosto che prendere un 29enne a parametro 0 quindi Ermoso va escluso dall'Inter ragazzi e dice Daniele Longo però dice Inter Ausilio Marotta votano per Ermoso OCTRI vorrebbe puntare su un profilo più giovane decisione finale nei prossimi giorni attenzione perché si potrebbe creare un'asta proprio intorno ad Ermoso uscite del Napoli parliamo un attimo di uscite del Napoli il Parma e il Cagliari vogliono Gianluca Gaetano contatti avviati con il Napoli io forse in Gaetano rimarrei a Cagliari sinceramente perché ha fatto una buonissima stagione a Cagliari ma occhio anche al Parma perché il Parma ne ho promosso dalla Serie B potrebbe fare un campionato di tutto rispetto quindi occhio il Genova intanto ha chiuso per l'arrivo di Alessandro Zanoli dal Napoli operazione in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni l'indiscrezione il Bari non aspetta più Ambrosino Frosinone ai dettagli si era parlato anche di Ambrosino al Bari ma secondo me c'è un po' area di battaglia diciamoci la verità fra i due De Laurentiis il figlio e il padre dopo le ultime dichiarazioni del figlio l'Olympic Lione attualmente è in testa alla corsa per ingaggiare Lindstrom dal Napoli colloqui aperti dice Nicolo Scira io non vorrei trovare un attimo la notizia che si parlava ieri di Osimène perché Osimène ragazzi addirittura ecco cessione lontana il Napoli lo convoca per il raduno di martedì martedì la squadra sarà a disposizione di mister Antonio Conte e attenzione perché io già vi avevo parlato già vi avevo parlato di questa cosa di dell'Arabia Saudita ecco le uniche squadre ad oggi che possono pagare questa clausola e possono dare quei soldi che attualmente il Napoli dà a Dosimène sono squadre arabe ragazzi l'Al Ali non vorrei dire una cavolata comunque ci sono squadre arabe intorno a Osimène e ora sono molto curioso di sapere visto che Mamuka Yukeli 3 o 4 mesi fa ma non mi ricordo di preciso disse testuali parole se arrivasse un'offerta dall'Arabia Osimène l'accetterebbe perché è interessato solamente ai soldi ecco io vorrei vedere ora Osimène cosa faccia cosa fa scusatemi quando gli arriverà quest'offerta dall'Arabia Saudita il Napoli la potrebbe accettare questa offerta ma poi resta tutto in mano al giocatore sapete è il giocatore che decide dove deve andare non è la società se il giocatore dice a me non non mi piace andare lì non ci voglio andare il problema è che il Napoli deve vendere prima di comprare Lukaku ci sta addirittura Bargigia dice che per Lukaku a Napoli è già fatta è già stato trovato l'accordo con il Chelsea ma ne riparleremo questa sera se usciranno ulteriori aggiornamenti di calcio mercato ve li porterò non vi preoccupate come quasi tutte le sere quindi sarebbe il quarto video di giornata se esce questa sera comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti sempre e comunque forza Napoli ciao oi io